All4Pack Ambalage Paris è la piattaforma internazionale di riferimento per l'innovazione nell'ambito di packaging, processo, stampa e logistica. Si svolgerà dal 4 al 7 novembre 2024 a Parigi. Nel nostro percorso di avvicinamento a questo evento incontriamo Christian Ponti e Wassimdar-Radridi, Sales Area Manager di P.E. Labelers. Perché è importante per P.E. Labelers partecipare a All4Pack Ambalage Paris? All4Pack Ambalage Paris per la P.E. è una delle fiere più importanti, essendo anche proprio il mercato francese uno comunque dei più importanti per la P.E. Ricordando appunto che per lo più è il mercato dove P.E. si è approcciato nei primi anni della sua esistenza e per noi è importante soprattutto nell'anno del cinquantesimo anniversario della P.E. garantire nuovamente la nostra presenza in questa importante fiera. La flessibilità e la modularità sono le caratteristiche chiave delle soluzioni di etichettatura automatica progettate e prodotte da P.E. Labelers. Su quali soluzioni punterete i riflettori in fiera? Punteremo sicuramente sull'ampia gamma di macchine che esporremo al nostro stand e a tutte le funzionalità che ci girano attorno e che ogni giorno rendono facile l'utilizzo ai tecnici e agli operatori dei nostri clienti. E parlando proprio di innovazione tecnologica la P.E. offre uno sguardo al futuro con appunto delle soluzioni nuove e molto molto interessanti che mostreremo in fiera. P.E. Labelers lavora a stretto contatto con i propri clienti, ascoltando e studiando con attenzione le loro esigenze produttive. Come sono cambiate negli ultimi anni e che direzione hanno intrapreso? Oggi i clienti richiedono sempre più flessibilità nelle macchine perché il mercato è in continua evoluzione e di conseguenza noi ci dobbiamo adattare a questa situazione e trovare sempre delle nuove soluzioni, delle nuove tecnologie da portare alle macchine per venire incontro appunto alle esigenze del cliente. P.E. negli ultimi anni ha deciso di investire il più possibile nella ricerca e sviluppo proprio per seguire l'onda che sta avendo l'innovazione tecnologica negli ultimi anni e cerca di essere il più vicino alle esigenze dei clienti. Allora ci diamo appuntamento a All4PAC Ambalas Paris, dal 4 al 7 novembre 2024 a Parigi. Non vediamo l'ora di incontrarvi e ovviamente vi aspettiamo numerosi. Veniteci a trovare allo stand 5G041. A presto! A presto! Grazie a tutti!